Buonasera, buonasera a voi. Allora, chi mi conosce sa perfettamente che quando poi vengo stuzzicato in qualche modo non ho alcun problema ad approfondire le questioni. Semplicemente un po' sono ondata così del dispiacere, chiaramente, della morte di Teotoschi Lacci che tutti quanti abbiamo amato durante quelli che soprattutto hanno una certa età come me durante i campionati del mondo di calcio del 1990 e non era mia attenzione fare un grande approfondimento ma semplicemente ricordare questo aspetto che è un dato di fatto. Poi purtroppo trovi sempre quelli che ti attaccano, quegli stupidi che pensano di andare giù pesantemente e spesso lo fanno senza mai portare un significato contributo in termini di dati di studi. Se tu attacchi una persona dicendo che sta dicendo delle stupidaggini e lo attacchi anche in maniera pesante per quello che dice, perlomeno dovresti riuscire a dimostrare perché questa persona secondo te sta dicendo delle stupidaggini che non corrispondono alla realtà dei fatti. Purtroppo quasi mai succede questo perché questi sono personaggi che semplicemente così sparano nel mucchio e pensano di offendere gli altri, soprattutto quelli che invece cercano di approfondire le questioni, di fare molta attenzione. Voi sapete perfettamente che io di solito cerco di partire da informazioni ufficiali o che perlomeno arrivano da fonte di informazione molto qualificate. Su questa base vorrei citarvi alcuni articoli, uno del Corriere della Sera, quindi partiamo dal Corriere della Sera, non un giornalino qualsiasi o qualcuno che ha scritto sul web. E lo potete trovare anche voi questo articolo, io ve lo cito, non voglio star qui ad approfondire, vi do solo il dato che poi l'avete letto, che lascia scioccati nel titolo di questo video, è il Corriere della Sera che il 19 di gennaio di un anno e mezzo fa afferma Marco Bonarrigo, ci dice che i calciatori di Serie A sono sei volte più soggetti, più a rischio di contrarre la SLA rispetto alla popolazione normale. Capite che questo è un dato che ci deve far accaponare la pelle, no? Poi andate a approfondire l'articolo perché altrimenti sto qui delle ore, perché ovviamente si entra di più nel merito dei casi, delle situazioni, ma ancora forse per certi versi ancora più scioccante è quello che dice un altro organo di stampa assolutamente qualificato ed è l'Avenire. L'Avenire, vi leggo il titolo che riguarda il caso Vialli, no? L'Avenire in questo titolo che trovate sicuramente, potete andare anche questo a trovare su internet, a proposito del caso Vialli dice, il caso Vialli, il sospetto nel calcio più morti per tumore al pancreas. Qui sì che ho voluto un attimino approfondire quello che ci dice in questo articolo il dottor Vanacore sul doppio dei casi di tumore al pancreas e l'Avenire parte proprio da quello che considera un caso madre, il caso di un giocatore della Fiorentina Bruno Beatrice e qui vi voglio leggere una parte di questo articolo. Ripeto, l'Avenire, non un giornaletto qualsiasi. Siamo partiti dalle morti per tumore al pancreas nel calcio come quella di Vialli e chiudiamo con quella che per noi da sempre rappresenta il caso madre. La morte del mediano della Fiorentina metà anni settanta Bruno Beatrice. Il mediano Viola è stato ucciso da una serie killer di raggi Röntgen per curare una pubalgia. Da perizia medico-scientifica la Röntgen-terapia causò la leucemia linfoblastica acuta che nel 1987 a 39 anni portò Beatrice alla morte. L'inchiesta condotta da Inasse e dal Pubblico Ministero di Firenze Bocciolini apurò che in quella Fiorentina degli anni Ottanta si fece sperimentazione medica. Da qui le possibili conseguenze letali per le morti premature degli ex Viola e compagni di Beatrice. E cita Nello Saltutti, Giuseppe Longoni, Ugo Ferrante, Massimo Mattolini, Giancarlo Galdiolo oltre ai casi di Giancarlo Antognoni infarto a 51 anni e Domenico Caso tumore al fegato dal fegato da cui è guarito. Bruno Beatrice è morto il 16 dicembre come Mihailovic oltre alla leucemia forse una seconda coincidenza su cui fare luce una volta per tutte. Ripeto l'avenire. Quindi è inutile che le persone voglio dire che si vogliono nascondere dietro un dito offendono il sottoscritto dandogli dei titoli. Non è farina del mio sacco, io non sono uno studioso di questa materia e neanche mi sono spacciato per questo. Io prendo delle fonti di informazioni qualificate come il Corriere della Sera e l'Avenire, voi stessi lo potete fare se avete voglia e andate ad approfondire. Ripeto c'è da caponare la pelle. Poi molti di questi casi. Tra l'altro c'è stata anche un'inchiesta del giudice di Torino Guarigniello, vi ricordate? Molto spesso purtroppo tutte queste cose vanno nel dimenticatoio perché magari poi scoprono che non c'è nulla, però io non ho letto questo. Io sono andato a ricercare anche su questi casi della Fiorentina qualcosa che mi dicesse a Alte, però poi è stata fatta un'inchiesta, è stato appurato che non era vero, che i Nassi sono sbagliati, che era assolutamente una cosa che non c'entrava nulla. Benissimo, io ne prendo atto. Io non l'ho trovato. Magari sarete più bravi voi a trovare degli studi che dimostrano che non c'entra nulla. Tra l'altro per concludere andatevi anche a leggere un caso, uno studio fatto in Scozia dove c'è il discorso che riguarda i tanti colpi di testa che in una carriera danno i giocatori, che avrebbe delle incidenze su certe patologie. Non voglio entrare nel merito, ripeto, chi ha voglia se lo va a vedere, se lo va a leggere e ognuno si può fare la propria idea. Però ragazzi, prima di insultare approfondite e quando insultate entrate nel merito. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.